si può? è permesso? ah che bella seggiolina ma ci sono sette seggioline ci devono essere sette bambini e a vedere questa tavola sette bambini molto disordinati oh un piccone e anche un calzino e una scarpa ma avete visto che camino? c'è su un dito di polvere e guardate ragnatele dappertutto dappertutto oh che pila di piatti sporchi e guardate quella scopa qui non ha mai spazzato nessuno possibile che la loro mamma non... oh forse non hanno la mamma sono alfani poveri piccini sentite facciamogli una sorpresa puliamo noi così forse mi faranno restare ovunque Grazie a tutti.